Buongiorno a tutti, il video di oggi è una curiosità che ha un sapore antico circa 15 anni fa una signora che aveva trovato un oggetto in un vecchio armadio un vecchio cassetto mi disse ah lei che colleziona cose vecchie cose del fascismo guardi cosa ho trovato, cosa le ho portato e mi portò questo fascicoletto fascicoletto con dentro dei francobolli, questi sono dei francobolli interessanti io lo guardai e mi sono brillati gli occhi perché di questo fascicoletto io conoscevo vita, morte e miracole ma non l'avevo mai avuto avevo studiato in alcuni articoli, in alcuni libri avevo avuto modo di approfondire queste tematiche e disse a questa signora lei sa chi è questa bambina? No non lo so chi è questa bella bambina questa qui è Sandra Mondaini, come è Sandra Mondaini? Eh è Sandra Mondaini, sì sì ebbene sì, questa è Sandra Mondaini quindi questo fascicoletto che appunto mi è stato regalato in maniera inconsapevole una signora che aveva trovato questa cosa, che mi conosceva e che appunto pensava di farmi cosa gradita ma non tanto quanto poi dopo ho fatto cosa gradita io a lei spiegandole un po' vita, morte e miracole di questo fascicoletto allora faccio prima un cappello per arrivare a questo simpatico oggetto come probabilmente sapete la tubercolosi o tbc è una malattia che sin dall'antichità colpisce una fetta più o meno ampia di popolazione nel mondo con tutto adesso non entro nell'aspetto tecnico anche perché non ne sono neanche capace però diciamo è una malattia virale che colpisce i polmoni in prima battuta ma non solo può colpire anche altre parti e che ha creato sempre una certa difficoltà nella sua lotta diciamo che in tempi recenti è abbastanza contenuta anche se poi in realtà nei paesi cosiddetti via di sviluppo vi sono ancora ampi margini purtroppo di miglioramento perché appunto vi sono numerosi i casi ma all'inizio del Novecento quando appunto era un problema non indifferente vennero attuate tutta una serie di nuove accorgimenti soprattutto legate all'igiene, alla pulizia la possibilità di utilizzare acqua corrente potesse in qualche modo essere l'occasione per permettere un più ampio una più ampia campagna di anche sensibilizzazione verso appunto l'igiene verso il tentativo di evitare contatti che potessero in qualche modo per certi aspetti molto molto lontanamente potrebbe assomigliare all'epoca che stiamo vivendo oggi ovviamente con le debitissime differenze detto questo quindi anche in Italia visto che vi erano casi di decine di migliaia di casi di morte a fronte della tubercolosi negli anni venti si iniziò da parte in quel caso del fascismo al governo del fascismo vennero attuate delle politiche, delle attività che in qualche modo potessero anche sensibilizzare soprattutto sensibilizzare la popolazione e la prevenzione e il tentativo appunto di prevenire una malattia un problema sanitario come questo e si arrivò al 23 giugno del 1927 con la legge 1276 che stabilì, che andò a creare dei consorsi provinciali contro la tubercolosi consorsi antitubercolari in ogni capoluogo di provincia affinché appunto venisse creata una sensibilità delle attività volte appunto alla condivisione alla comprensione anche nelle popolazioni magari più minute che non avevano la percezione di riuscire a comprendere l'importanza dell'igiene e di tutta una serie di pratiche che in qualche modo avrebbero offerto un grave beneficio appunto nel tentativo di lotta contro questa malattia e arriviamo quindi all'inizio degli anni 30 con la creazione di tutta una serie di gadget diciamo così la cui vendita il cui ricavato era funzionale appunto all'aumento di attività benefiche in questo senso quindi sotto il simbolo della croce di Lorena che per esempio sarebbe stata appunto utilizzata essendo Lorena sicuramente una sua logicità in Francia avendo utilizzata per esempio da De Golla durante la seconda guerra mondiale come forma simbolica della cosiddetta Francia libera ebbene questa croce di Lorena rappresentava il simbolo di queste attività che appunto soprattutto negli anni 30 a partire principalmente dal 1931 fino all'inizio della seconda guerra mondiale quindi diciamo grossomodo il periodo è 31-40 in cui vennero appunto portate avanti tutta una serie di campagne anche di finanziamento e il finanziamento venne svolto soprattutto grazie alla vendita di questi francobulli ebbene sì questi fascicoletti come li vedete che qui ci dà anche una spiegazione vedete terza campagna nazionale per il francobollo chiudilettera antitubercolare quindi diciamo anno undicesimo quindi anno undicesimo siamo appunto nel 30-32-33 a cavallo questa è la terza la terza campagna quindi siamo alla terza campagna con l'effigie di Sandra Mondaini perché il papà Giacinto Mondaini che era un fumettista un grafico che aveva una sensibilità artistica in questo senso venne incaricato della realizzazione di una serie appunto di queste opere e coinvolse la figlia che non era in più riprese coinvolse la figlia come appunto modella modella giovanissima modella per questa per questa campagna è una campagna che ebbe un grandissimo successo perché questi in particolare questi francobolli chiudilettera ebbero veramente vendite impressionanti cioè l'organizzazione statale parastatale che era dietro a questo tipo di iniziativa guadagnò molti soldi che appunto erano poi investiti voglio sperare magari c'erano anche ruberie anche in quest'ambito non mi stupirebbe però speriamo che la maggior parte fossero destinate ad attività benefiche non fosse altro perché questi questi fascicoletti avevano una loro caratterizzazione propagandistica nella diffusione di valori legati appunto all'igiene e tutto quanto quindi vediamo come questi cosa ci dice federazione italiana nazionale fascista per la lotta contro la tubercolosi e consorsi provinciali antitubercolari quello che vi dicevo ogni francobollo isolato costa di centesimi il libretto di 10 francobolli costa una lira è un dovere per tutti acquistare il francobollo antitubercolare e qui c'è appunto la sandra mondaini la piccola sandra mondaini con il francobollino e dentro abbiamo i piccoli francobolli appunto i francobolli chiudi lettera e appunto tutti quanti avevano una loro connotazione è interessante come nel retro nel retro vi fossero dei consigli dei consigli appunto come dicevo non non mangiare i cibi già toccati da altri sono dei consigli che andrebbero bene anche oggi quindi se il pasticcino già morso il frutto sbocconcellato che terminologia non accettare né offrirlo quanto quanto male può fare codesto gesto sudicio e brutto poi almeno un bagno alla settimana ecco era un problema un bagno alla settimana all'epoca poteva essere un problema l'acqua non costa nulla e il sapone poco anche per i giorni nostri quindi lavatevi mi raccomando e pur valgono più di un lo leggo così se no non vedo più di un tesoro sono la salute delle persone acqua e sapone forza e decoro dormire con le finestre aperte mi raccomando lasciata lasciala aperta la finestrella la notte o bimbo la notte è scura ma adora il vento ma l'aria è pura guida i tuoi sogni e lassù una stella poi lavarsi i denti prima di coricarsi lo spazzolino che sfrega e fruga denti e gengive sappio bambino la nera carie la mette in fuga fa buon guardia lo spazzolino poi il denaro raccolto con questo francobollo resta per intiero a disposizione dei consorsi provinciali antitubercolari ed è speso in opere concrete di assistenza e di cura per i tubercolosi poveri poi qui c'erano altre indicazioni qui c'era un bellissimo interessante un grafico come diceva che dal 25 al 32 fossero in calo drastico i casi di tubercolosi la tubercolosi diminuisce in Italia perché l'organizzazione antitubercolare del regime fascista è in continuo crescente sviluppo ecco qui quindi anche come una attività ovviamente di propaganda infatti la propaganda era assolutamente presente anche nel retro in cui oltre a tutta la simbologia del regime vi era una immancabile frase di Mussolini che appunto inneggiava come la solidarietà l'unione fa la forza e tra l'altro l'unione fa la forza era anche scusate il motto viribus unitis l'unione fa la forza che stranamente era molto anche di altre cose di una corazzata austro-ungarica che ha fatto una brutta fine quindi come un po' i motti tornano anche con diverse declinazioni detto questo mi raccomando lavatevi non toccate il cibo ma masticato da altri mi piace iscrivetevi al canale alla prossima ciao